Primi, primi, anche con l'asterisco, primi, anche con l'asterisco, primi, anche con l'asterisco, primi, non ce n'è i padroni di questo campionato, siamo solo noi, primi, primi, anche con l'asterisco, anche con una partita di meno, anche che dobbiamo ancora fare lo sconto diretto che vi spezziamo in due, vi spezziamo domenica prossima, e comunque primi, con la partita in meno, con l'asterisco, arriviamo comunque davanti, una partita drammatica, 1-0 contro la Fiorentina, a Firenze, senza il centrocampo titolare, la decide come sempre la nostra stella, Lautaro Martinez, il capitano, PEM, di testa, un bel anticipo sul calcio d'angolo, 1-0, e tutti a casa, e ci hanno provato, e ci hanno provato, in più, in più, il rigore dato alla Fiorentina, io non lo so quanto fosse rigore, non lo so, però, Sommer la para, grande Sommer, grande Sommer che la para. Quindi ragazzi, è andato tutto bene, è andato tutto bene, siamo primi, 1-0 a Firenze, adesso ci rilassiamo, facciamo un po' di analisi, prima iscrivetevi al canale, mi raccomando, cliccate su iscriviti e dopo sulla campanella, così vi arrivano tutte le notifiche dei miei video e delle mie live. Allora, ragazzi, 1-0, giocavamo senza Ciala e Barelli, e soprattutto Ciala sappiamo quanto è fondamentale, perché Aslani, per quanto sia un ottimo prospetto, grande tecnica, ma non ha l'uscita palla facile quando è sotto pressing, infatti stasera è andato in grande difficoltà, e infatti ha giocato bastoni, anche se non era proprio al cento per cento, veniva dall'infortunio, proprio perché per l'uscita palla ci serviva come il pane bastoni, detto che stasera è stato uno dei pochi da salvare, anche se ha avuto qualche sbagliatura, ma ha salvato un gol. Allora, dicevamo, loro, come ci si aspettava, ci sono venuti a prendere alti subito, pressing a milla all'ora, e noi ovviamente siamo andati in difficoltà, già ci andiamo in difficoltà, quando abbiamo Ciala e Barelli, figuriamoci oggi senza. Quando poi andavano su un zola lungo, riusciva sempre ad anticipare De Frey, sempre ragazzi, sempre. De Frey non riusciva a tenerlo a un zola, poi nel secondo tempo forse ha preso un po' di più le misure, ma nel primo veniva sempre ad anticipato De Frey. E niente, però alla fine, sulla prima azione pericolosissima, dove Turam la mette in mezzo, sta per arrivare Carlos Agusta a battere in porta a un metodo alla linea, fa un salvataggio clamoroso Faraoni. Ragazzi, clamoroso il salvataggio che ha fatto questo. Però, 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 sul calcio d'angolo, perché appunto il salvataggio ha chiuso la palla in calcio d'angolo Faraoni, gol della nostra stella più lucente, il capitano, e il toro di Paglia Blanca 1-0 Lautaro. Perfetto, però continuano a fare la partita loro, noi stiamo bassi per provare a ripartire, ovviamente Inzaghi non se le sentite di andare a pressare alto, eccetera, senza sciala per i recuperi, senza barella. Su quello io do anche ragione. Loro, alla fine, non sono stati pericolosi, nel primo tempo, non mi ricordo questi grandi pericoli della Fiorentina, e invece noi ci mangiamo un gol fatto, con un triangolo che manda in porta Duram, che di velocità va dritto per dritto, punta la porta, semina gli avversari, sul più bello sta per calciare in ciampa, in ciampa da solo, glamorosamente, ragazzi. Quella è una cosa incredibile. Stasera Duram malissimo, ha sbagliato tutti gli appoggi, ha sbagliato questo gol, non mi è piaciuto, tant'è vero che Inzaghi l'ha tolto, anche se io non ero contento, perché non va tolto Duram e Lautaro, non vanno tolti mai, perché le riserve, ragazzi, non sono all'altezza. Infatti si è visto quando è Zatarnatovic, Sanchez, niente da fare, non abbiamo più creato pericoli, però va bene. C'è da dire anche, oltre alla prova negativa di De Frij, Bastoni ha fatto un fallo di mano, ha procurato una punizione pericolosa, però poi, verso il 45esimo, un Zola su una ribattuta di caccio d'angolo, stava tirando in porta quasi a botta sicura, Bastoni fa un super intervento in scivolata, e salva il gol, e il secondo tempo rinizia come il primo, con loro che vanno in pezzo in caldo, e noi che proviamo a resistere, a fare qualche ripartenza. Si vede che Turam sta giocando male, e lo toglie, poi toglierà anche Lautaro per Sanchez, ripeto, questi sono cambi ragazzi, sull'1-0, su una partita in bilico da non fare mai. Pavar stasera, monumentale, perché in difesa è stato il più forte dei nostri, ripeto De Frij, si è fatto anticipare sempre, Bastoni ha fatto sbagliature, anche se ha fatto quel sabbataggio, Sommer, Sommer ragazzi, oltre di correparato, ha fatto un intervento, su una girata, credo sempre di Zola, ha tolto la palla dall'incrocio, praticamente, grandissimo Sommer, Darmian, ragazzi, Darmian gli vogliamo tutti bene, ma non ha spinta sulla destra, non è le sue caratteristiche, infatti, quando è entrato Dunfris, mi aspettavo di più, ma era un momento che la squadra aveva tolto anche le punte, quindi Dunfris ha voglia a spingere, benino Carlos Augusto, anche se, poi, in molti cross, si perdeva, la metteva male, lo sappiamo che lui non ha il piede, spinge tanto, ma non ha il piede di Marco, ne era nemmai, frattese, anche lui, ha sbagliato diversi passaggi, ne recupera lento, nella, quando conduceva il contropiede, molte volte si è impappinato, è caduto, non ha fatto mai, questo è un ragazzo, e quando subentra, fa benissimo, quando deve giocare titolare, è un po' un problema, Mighi Darion, stasera, a mio avviso, migliore in campo, per distacco, proprio, Mighi Darion contro la Fiorentina, ha palleggiato per tre, ha difeso, c'è stata un'azione, dove loro hanno fatto, una percussione centrale, proprio puntando la porta in mezzo, e lì ragazzi, Aslani, si è fatto passare come niente, chi l'ha recuperata la palla, che stava per essere d'azione gol? Mighi Darion, Mighi Darion, Mighi Darion, Mighi Darion, era ovunque, dava le palle in avanti, recuperava dietro, palleggiava, ragazzi, sugli scudi, è Mighi Darion, oggi sugli scudi, è Mighi Darion, quindi, benissimo lui, Laudaro, ragazzi, che cosa gli vogliamo dire a Laudaro, Laudaro, sempre top, è lui che l'ha decisa, senza di lui, l'Inter perde, 70% della sua potenza offensiva, mi è piaciuto, mi è piaciuto quando, 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 non mi è piaciuto, scusate, quando Inzaghi ha tolto le due punte, cioè, lo voglio rimarcare, ragazzi, per quanto Duram stesse giocando male, per quanto Lautaro non ne aveva più, ma è, cioè, nel momento in cui si è in Italia di Sanchez e Arnautovic, l'Inter basta, non è stata mai più pericolosa, zero ripartenza, zero tutto, non esiste, non esiste, non possiamo toglierli mai, almeno che si interviene sul mercato, ragazzi, perché i gambi non sono assolutamente di livello in attacco, non capisco la questione Dunfriss, che oggi è subentrato, ma non gioca mai titolare, nelle ultime 4-5 partite, ho capito il contratto, non lo rinnova, andrà via giugno, ma non possiamo castigarlo, e non farlo giocare fino a giugno, o fargli fare gli sprazi, lì il titolare è lui, e deve essere lui, Benino Bissek, quando è entrato, io avevo paura, ma è stato attento, ha preso tutti i palloni, la stessa cosa a Cerbi, quando è entrato al posto di Bastoni, ha monito, poi, una menzione speciale, è vero che il rigore l'ha tirato male Nico Gonzalez, però ragazzi, che parata ha fatto, cioè Sommer comunque l'ha presa, il tiro era molle molle, l'MLM, ma l'ha presa, poi, quanto fosse rigore, io non lo so, perché è vero che gli prende la faccia, col pugno, ma prende anche la palla, poi sono questioni di attimi, magari prende un attimo prima la faccia, subito del pallone, o il contrario, non lo so, guarda, da un lato sono contento, che ce l'hanno dato contro, così non si parla, innesima volta, ma rotta league, capito, che non è vero niente, però il rigore ce l'hanno dato, e loro sono sbagliati, Nico Gonzalez, che ancora si vede comunque non essere in forma, questa partita è la bocciatura cosmica, dell'acquisto di Klassen, che non ha fatto neanche un minuto, né al posto di Frattesi, né al posto di Aslani, non l'ho ammesso, quindi anche lì, dobbiamo intervenire, l'anno prossimo si parla già di Zerisky, però, oltre tutto questo, ragazzi, cosa contava? Contava vincere, non si possono vincere tutte le partite, 4-5-0, facendo calcio champagne, oggi ancora di più, che ti mancavano, Cialanoglo e Barella, che è il centrocampo titolare, però ragazzi, l'abbiamo portata a casa, ed è questo l'importante, siamo primi, anche con l'asterisco, anche con una partita in meno, siamo primi, siamo noi i padroni del campionato, allora mi raccomando, iscrivetevi al canale, cliccate prima su iscriviti, subito dopo, sulla campanella, selezionate tutte, in modo che arrivano tutte le mie notifiche, sui video, sui live, sui live che faccio, Forza Inter, primi, il nostro solito saluto in latino, vide te mox.